Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti Congresso provinciale del PD Irpino, milionesima puntata a dispetto del mio amico Nino Schena che non ne può più. Dunque la parola d'ordine dell'area De Caro De Luca, rilanciata ieri dalla sede del partito in via tagliamento è resistere, 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 all'assemblea noi non ci andremo. A spiegarne le motivazioni con la solita e inappuntabile chiarezza è stato ancora una volta il candidato a vuoto Michelangelo Ciarcia, il quale a sostegno della propria verità, sguardo rivolto al cielo, a un certo punto ha detto io ho il Vangelo dalla mia parte. Gesù, 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 fermalo tu, questo è un altro che si crede il Padre Eterno è sceso in terra.